I ragazzi della lista 1 e vorremmo esporvi la nostra campagna elettorale su come vorremmo migliorare la scuola. Allora io farei dei mercatini dove, come fa del bevo luso, lo darei all'ospedale pediatrico del Maier e l'altra metà lo utilizzerei per l'acquisto di materiali scolastici, home e banchi. Facendo una gara di raccolta differenziata almeno la scuola diventerebbe più pulita e bella. Come faresti a creare delle gare per i bambini più esclusi? Organizzerai delle gare sportive due volte al mese. Farei una giornata in cui spiego come si usa internet in modo sicuro. Il futuro è nelle nostre mani!